un saluto dal vostro vincenzo veluca oggi voglio spendere due parole sui test di medicina l'imbacillità la cialtroneria dei cosiddetti creatori dei test di medicina ha raggiunto dei livelli esorbitanti quindi io voglio intervenire proponendo delle domande intelligenti da fare ai ragazzi che vogliono intraprendere la professione di medico in questo taccuino ho segnato alcune domande e adesso ve le propongo le condividiamo insieme chi è Beatrice Aluzzi forse la versione in carne e ossa di Anna dai capelli rossi qualcuno di voi sicuramente ricorderà il cartone animale va bene il concorrente dell'attuale GF che si chiama Giuseppe Garibaldi è forse la reincarnazione del fu Giuseppe Garibaldi che tra l'altro disse qui si fa il grande fratello o si muore terza domanda quanti anni aveva la contessa de Blanc quando è entrata nella casa del grande fratello domanda molto intelligente Cabirbeti anche lui partecipante del grande fratello aveva forse nascosto la sua amata di Mariana nel gabinetto del grande fratello non lo sappiamo infine le domande più intelligenti last but not least Eleonore Ferruzzi e Luca Salatino chi sono su Luca Salatino posso spendere due parole dare un suggerimento era il cuoco ufficiale del grande fratello dell'anno scorso queste sono le domande intelligenti che gli autori dei test dovrebbero proporre ai ragazzi meditate gente meditate un saluto dal vostro Vincenzo De Luca